E' stata un'impronta lasciata su un contenitore di monete di un distributore di merendine a tradire l'autore del furto della scuola materna di Via De Carol si è avvenuto il 6 ottobre scorso. Si tratta di un sassarese pregiudicato che è stato bloccato dai carabinieri della compagnia di Sassari in una casa abbandonata nei pressi della stazione. Mauro Pusei, due 28 anni, disoccupato, è stato arrestato su ordinanza di custodia cautelare dal giudice delle indagini preliminari Antonio Pietro Spano. Un fenomeno quello dei furti seriali nelle scuole che aveva destato molto scalpore che le forze dell'ordine stavano seguendo con particolare attenzione. Nel corso della perquisizione, nell'alloggio di fortuna in cui è stato bloccato il pregiudicato, è stata trovata numerosa refurtiva riconducibile a diversi furti nelle scuole dell'infanzia, ma anche in cantieri e abitazioni private. Un perfetto kit dello scassinatore che prevedeva spadini, coltelli, martelletti e bastoni rivestiti artigianalmente per scardinare gratte e rompere vetri senza ferirsi, ma in qualche caso non sono serviti a molto perché sono state rilevate tracce di sangue che sono ancora all'esame del RIS di Cagliari. Tra la refurtiva recuperata, oltre a numeroso materiale didattico, computer, portatili, telecamere, molte chiavi, una bicicletta, un motorino, strumenti per l'edilizia, buoni postali e orologi. Sono in corso indagini per capire a quale dei numerosi furti nella scuola sia riconducibile l'azione disoccupato e se sia stato aiutato da altri complici.